Quindi, per riconoscere, si fanno un po' di versi strani. Non schiacciare. Guarda che bella, che bellissimo. E si può vedere la cresta. Mi guarda buoni questi. Un'articola. Da qua, da qua magari 10. I nidi sono 10. Da qui si vede bene i nidi. E la nidi c'è la. Da qui si vede bene i nidi, guarda.